Arte Investimenti compie 10 anni. Per l'occasione abbiamo deciso di proporvi delle opere e farvi uno splendido regalo. Potete scegliere voi il prezzo da offrire per comprare appunto le opere che verranno presentate in ogni singola nostra pillola. Oggi abbiamo sul nostro set due opere di Michele Cascella, una Primavera di San Gimignano e la Portofino. Due opere di uno tra i paesaggisti più importanti del Novecento italiano, in grado di far immergere chi guarda il suo quadro all'interno della creazione. Quindi ritrae il paesaggio in maniera romantica, facendoci sognare e facendoci rivivere la realtà del luogo. Non perdete l'occasione di aggiungere alla vostra collezione una firma di questo calibro, la firma di un artista presente a più edizioni della Biennale di Venezia, un artista presente al Victoria & Albert Museum di Londra, un museo importantissimo, addirittura il più importante al mondo, per arte e design, all'interno del quale troviamo i cartoni di Raffaello, quindi i cartoni preparatori delle opere d'arte più famose al mondo, oppure i calchi di Michelangelo o del Canova, quindi insomma un posto che accoglie nomi importantissimi, all'interno del quale abbiamo anche Michele Cascella. Non vi fate scappare quindi la possibilità di comprare due opere di questo artista, potete comprarle in diverse maniere, il classico centralino, quindi ci chiamate oppure ci mandate una mail o addirittura molto più semplice, entrate all'interno del nostro sito internet www.arteinvestimenti.it e cliccando semplicemente Fai un'offerta all'interno della scheda dell'artista, potete inviarci direttamente la vostra proposta e potrete portarvi a casa una di queste due meraviglie. Grazie a tutti! Grazie a tutti!